Cecilia Rodriguez è sicuramente uno dei personaggi più discussi del Grande Fratello Vip, il reality dedicato ai personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Durante la prima fase del programma, la bella modella argentina si è fatta notare grazie alla sua spiccata simpatia, successivamente per aver terminato in diretta la sua relazione con Francesco Monte, extronista di Uomini e Donne. Da quando i due hanno interrotto il loro rapporto, Cecilia Rodriguez è tornata più volte a parlare della sua relazione passata. In queste ore, la bella modella argentina ha spiegato agli altri abitanti della casa più spiata d'Italia perché ha deciso di porre fine alla sua storia d'amore durata ben quattro anni. Francesco Monte, stando a quanto dichiarato dalla minore dei Rodriguez, impediva alla modella di essere se stessa, limitando molto i suoi modi di fare. Cecilia, per far sì che la relazione potesse proseguire, ha scelto di cambiare alcuni lati del suo carattere che proprio non andavano giù all'ex protagonista del programma di Maria De Filippi. Punto anche se, la modella non ha mai negato di dover tanto a Francesco, poiché grazie a lui è riuscita a uscire da un brutto periodo della sua vita, quando era da poco arrivata in Italia e sentiva come un pesce fuor d'acqua. Punto secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, Francesco Monte avrebbe scelto di farsi un nuovo tatuaggio per dimenticare Cecilia Rodriguez. Anche se, secondo quanto dichiarato dall'opinionista del grande fratello Vip, l'ex tronista di Uomini e Donne sarebbe già andato avanti con la sua vita, approfittando della situazione offerta dalla bella modella argentina per avere un certo riscontro mediatico. Il popolo del web, invece, sembra pensarla in maniera completamente diversa Francesco Monte, agli occhi del pubblico da casa, si sarebbe comportato da perfetto gentiluomo, senza mai giudicare o offendere Cecilia Rodriguez. La sorella minore di Belen, durante il corso del reality, ha specificato che una volta fuori dalla casa vorrà vedere il suo ex fidanzato per parlare senza occhi indiscreti di ciò che è successo tra loro. Molto probabilmente, l'occasione arriverà a breve visto che Cecilia è tra i concorrenti in nomination questa settimana per poter abbandonare in maniera definitiva il programma di successo condotto da Ilari Blasi? Secondo i recenti sondaggi lanciati sul web, la Rodriguez e Ignazio Moser sarebbero i due personaggi maggiormente a rischio eliminazione.